L'importanza di questo strumento è principalmente il fatto di poter comunicare e sensibilizzare le persone sulle patologie delle valvoli cardiache. In verità più di un milione sono le persone affette da valvulopatie, sia di stenosia ortica che rigurgido mitralico, ma all'incirca 300.000 non possono essere soggette a un intervento cardiochirurgico a cuore aperto. Un tempo si curavano soltanto con gli interventi a cuore aperto, oggi grazie alla chirurgia mininvasiva la salute, grazie alle nuove tecnologie, può essere presa con un passo in più, con un strumento in più. Questo strumento va utilizzato insieme agli strumenti della prevenzione, degli stili di vita. Le persone, soprattutto le persone anziane over 65, sono per lo più affette da questo tipo di patologia, ma non ne sono coscienti. Due persone su cento non sanno proprio di avere questa patologia, quindi non prendendo coscienza, non si preoccupano di sottoporsi a controlli per prevenire e possono andare incontro all'aggravamento della patologia anche fino alla morte entro i 2-3 anni. In questo caso bisogna sensibilizzare le persone, soprattutto le persone anziane, a stili di vita corretti, dieta mediterranea, corretto movimento, ma anche e soprattutto la prevenzione come arma e strumento per la guarigione delle patologie. È solo con la prevenzione dell'ipertensione, dell'ipercolesterolemia, di quelle patologie che comunque si sono aggregate e spesso accompagnate a queste valvulopatie. È solo nella conoscenza degli strumenti di cura nuovi che ci sono oggi per le valvulopatie arbitrarie che si potrà fare prevenzione degli aggravamenti e delle complicanze di queste patologie.